finora abbiamo utilizzato il data fetching statico questo significa che in fase di aggiornamento dei dati su un eventuale cms la nostra pagina non renderizzare i dati fino a una nuova build per evitare questo comportamento possiamo effettuare il dynamic data fetching utilizzando l'opzione cash no store questo è possibile perché next stand e fetch offrendo delle nuove possibilità di caching e strategie per il fetch dei dati e in questo caso utilizzando l'opzione cash no store faremo in modo che la cash non sia presente quindi sia invalidata ogni richiesta e di conseguenza l'utente riceverà dei nuovi dati dei dati freschi come si suol dire ogni volta che effettua la richiesta della root ora possiamo killare il processo effettuare una nuova build con npm run build e nel risultato vediamo che accanto a demo 2 abbiamo un simbolo lambda se andiamo nella leggenda possiamo vedere come la lambda rappresenti invece il server side render ad runtime questo vuol dire che ogni volta che l'utente renderizzerà questa pagina o in particolar modo questo componente verrà effettuata una nuova chiamata al endpoint e recupereremo i dati aggiornati